Sabato 25 maggio 2024 alle ore 16 a Caltanissetta presso il Cineteatro dell'Istituto Oasi Cristo Re sarà proiettato il nuovo docufilm e non è andato tutto bene del regista Paolo Cassina. La proiezione a Caltanissetta è organizzata da ali, avvocati liberi, associazioni di promozione sociale a cui hanno aderito diversi avvocati italiani concepita per resistere ai sensi della legge, alle violazioni dei fondamentali diritti umani. Il documentario cerca di analizzare i fatti accaduti durante la pandemia da SARS-CoV-2. Saranno presenti il dottore Salvatore Totaro, medicina generale internista cardiologo e gli avvocati Federica Fantauzzo del foro di Siracusa e Vincenzo Nicoletti del foro di Caltanissetta.